t'aiuto venitevi a salvare uè testina dove ci fai in alto dai che vengo su apro la porta tac andiamo a fare l'aperitivo dal paolo tac aiuto aiuto picciotto veniva a prendere aiuto aiuto venite a prendere aiuto aiuto venite a prendere vieni qua ma che le stucose che non parte annaggia annaggia la volta spenta è qua a tutta a me mi guarda Ciro ma che devo fare con questa motorista oh finalmente partito eh non ci fai che sto arrivando non ci fai a gente tutta città ma ronno principe sei tutta magra ma ma le vuoi casatili le vuoi tu babà senza complimenti eh facciamolo un bello caffè e poi andiamo da donna illa dai cina baci va wow principe avete visto pure voi ma chi lo sa chi c'è sta marato chi lo è marato ciao principe no matrimonio n'apurità sia come giorgio vernesceriva